Voglio trovare tutte le soluzioni della seguente equazione 9 alla x più 12 alla x uguale a 16 alla x Allora, prima di tutto noto che posso scrivere il 12 come 3 per 4, tutto alla x 16 ovviamente come 4 alla seconda, tutto elevato alla x A questo punto distribuisco l'esponente tra il 3 e il 4 Così da ottenere 9 alla x più 3 alla x per 4 alla x uguale a 4 alla seconda, tutto alla x E a questo punto divido ambo i membri per 9 alla x Quindi ottengo al primo membro 9 alla x fratto 9 alla x che fa 1 Più 3 alla x per 4 alla x Il 9 alla x denominatore lo scrivo come 3 alla 2x Uguale a 4 alla seconda, tutto alla x Fratto 9 lo scrivo ancora come 3 alla seconda, tutto alla x Ora, questo 3 alla x si semplifica e qui mi rimane solo 3 alla x Quindi scrivendola meglio posso scrivere 1 più 4 terzi tutto elevato alla x Uguale a 4 terzi al quadrato tutto alla x A questo punto chiamo t 4 terzi alla x Notando che è maggiore di 0 È un esponenziale quindi necessariamente maggiore di 0 Lo sostituisco nella mia equazione Quindi ho 1 più 4 terzi alla x che è t Uguale a, qui posso scambiare due esponenti Quindi scrivere 4 terzi alla x tutto alla seconda E 4 terzi alla x è t poi alla seconda Porto tutto da una parte quindi t alla seconda Minutti meno 1 Abbiamo già visto in un altro video che vi lascio in descrizione Che le due soluzioni di questa equazione sono T con 1, 2 uguale a meno b che è 1 Più o meno radici di 5 fratto 2 Come notato anche nell'altro video Se t con 1 è uguale a 1 meno radici di 5 fratto 2 Radici di 5 maggiore di 2 Quindi questo è minore di 0 Di conseguenza non esiste x tale che 4 terzi alla x perché ricordiamoci che t è uguale a 4 terzi alla x È uguale a 1 meno radici di 5 fratto 2 Invece t con 2 è uguale a 1 più radici di 5 fratto 2 E questo possiamo porlo uguale a 4 terzi alla x Posso applicare il logaritmo a entrambi i membri Cioè quindi avere la riscrivo Logaritmo di 4 terzi alla x Uguale a logaritmo di 1 più radici di 5 fratto 2 La x a primo membro la porto davanti E poi divido entrambi i membri per logaritmo di 4 terzi Quindi ho logaritmo di 1 più radici di 5 meno logaritmo di 2 fratto logaritmo di 4 meno logaritmo di 3 Abbiamo utilizzato due proprietà dei logaritmi Il logaritmo di a alla b è uguale a b per il logaritmo di a E poi che il logaritmo di a fratto b è uguale al logaritmo di a meno il logaritmo di b E questa è la soluzione della mia equazione Se questo video ti è piaciuto ti consiglio di vedere quest'altro che ti lascio in sovraimpressione In cui risolviamo un'altra equazione esponenziale Grazie